Il meteorite di San Valentino, così è stato soprannominato da alcuni, giunge all'Aquila, o meglio frammenti di esso, quelli caduti sul suolo di Matera lo scorso 14 febbraio. Una massa che prima si è incendiata al contatto con l'atmosfera e poi si è sgretolata all'impatto, avvenuto a 300 km orari, lasciando un piccolo cratere sul balcone dove è atterrata. 70 grammi dei 100 che hanno toccato il suolo di Matera sono ora nelle mani attente degli scienziati dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN. In termini di frammenti stiamo parlando di 10 porzioni di meteorite che variano dai 4 ai 24 grammi. La loro importanza nelle parole del direttore dei laboratori Ezio Previtali. La cosa interessante di questo meteorite è che arriva da noi per fare le analisi poco dopo l'impatto, sono passati 7 giorni dall'impatto, quindi diciamo quegli elementi che tendono a transire, a decadere, gli isotopi che scompaiono in tempi brevi sono ancora presenti nel meteorite e con gli strumenti sensibili che abbiamo faremo una misura di dettaglio. Questo ci darà informazioni soprattutto su quello che è non tanto l'origine del meteorite, ci aspettiamo che sia un meteorite del Sistema Solare, ma sulla storia che il meteorite ha subito, da una parte nel suo transitare all'interno del Sistema Solare e dall'altra parte nel suo arrivare sulla Terra fino a impattare nella zona di Matera. Ecco la colluttazione e lo studio che avverrà appunto in questi giorni, quindi come ha detto lei a distanza molto ravvicinata, può essere considerato un evento tra virgolette raro? Sì, è un evento raro perché normalmente i meteoriti si trovano facendo ricerche diciamo sul terreno, però normalmente si trovano meteoriti che sono sul terreno da tempo. Questo meteorite ha il grosso vantaggio di avere, cioè si è osservata la traiettoria di caduta e si è ritrovato il meteorite in tempi brevissimi. Gli studi saranno portati avanti dal Laboratorio Stella dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Ai nostri microfoni il suo responsabile, Mattias Laubenstein. I frammenti di meteorite saranno studiati a breve nel Laboratorio Stella delle NFN. Quali sono le analisi che verranno portate avanti gli studi? Allora noi facciamo proprio le prime analisi perché dobbiamo studiare delle tracce radioattive che sono state create durante il viaggio nello spazio. Ed è un'analisi non destruttiva, vuol dire che noi prendiamo semplicemente il pezzo e lo mettiamo sopra il nostro rivelatore per vedere queste radiazioni. A trasportare i frammenti da Matera all'Aquila è stato Dario Barghini dell'Università degli Studi di Torino. Come sono avvenute le operazioni di ricerca e appunto proprio trasporto? Allora ovviamente appena ci siamo assicurati che fosse una meteorite ci siamo mossi subito per poter preservare questi campioni al meglio possibile anche in queste operazioni delicate di trasporto. Quindi gli operatori sul campo, i nostri collaboratori del progetto avevano come avete visto dei contenitori ermetici con gel di silice per mantenere l'umidità bassa all'interno di questi contenitori e opportunamente imbustati singolarmente per i frammenti più grandi di gruppo, per i frammenti più piccoli per mantenere anche una separazione, una catalogazione delle masse recuperate.